Warn me up in a nova's glow And drive me down to the dream below Cause I'm only a crack In this castle of glass Salve a tutti i mostri italiani Eccoci il secondo capitolo della nostra guida di Rage of Legends Oggi andiamo a parlare di qualcosa di più interessante Di qualcosa di più profondo A cui probabilmente molti di voi non penserebbero Il client di Rage of Legends Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere Questa è la schermata iniziale Dove c'è il nostro famoso tasto play o gioca Clicchiamo subito sulle rondelline in alto a destra Allora vediamo qui Queste sono le opzioni generali Qua c'è il peer-to-peer transfer La spunta peer-to-peer Cos'è il peer-to-peer? Il peer-to-peer ad esempio viene utilizzato per programmi come Emuul o Torrent È un trasferimento di dati tra le persone Ovviamente che passa da un server principale Ok il peer-to-peer noi non lo vogliamo Perché sia che noi quando altre persone stanno scaricando la patch che voi avete Stanno scaricando il cliente di LoL Noi inviamo i nostri dati a loro Questo a volte rischia di far laggare o alzare il ping Non è del tutto vero Non è proprio così diciamo come l'ho interpretato io Però togliamo questo tasto repair Che non va mai pigiato a meno che il vostro cliente non sia veramente in condizioni devastate E questo invece è il save logs che permette di salvare dei codici e delle patch che vengono via via introdotte in LoL Ok perfetto Mi raccomando togliete la spunta Qui abbiamo le regional settings Questo è la selezione della lingua Io assolutamente vi consiglio di mettere in inglese Soprattutto se volete giocare in chiave competitiva In italiano i giochi come MOBO, MOI o no Abborro l'idea di giocarci in italiano Ok non tutti sanno bene l'inglese Ma uno è un modo per impararlo sicuramente E due l'inglese aiuta Soprattutto se vogliamo giocare a ranked o comunicare con il nostro team E gli vogliamo dire un item Noi abbiamo in italiano Gli item sono scritti in italiano Io voglio dirti fatti la Sunfire Cape Perché così se gli vai più tankiness Non è che gli posso dire fatti il mantello di fuoco Questo è un po' il concetto stretto stretto Diciamo terra a terra E poi anche perché Ad esempio quando si va a vedere una skill La skill non la si va a leggere in italiano Perché in italiano è un'interpretazione È una traduzione dall'inglese Per avere l'interpretazione vera e propria Bisogna leggere in inglese una skill Ok spero che questo concetto sia abbastanza Questa è il select region Ovviamente è west Vabbè anche qui salviamo Qua ci sono le ultime informazioni Leggete perché ad esempio qua ci sono le patch notes Che sono uscite proprio pochi giorni fa Che anche quelle ora dopo andremo a commentare Ok Diciamo il tasto play Eccoci all'interno del nostro bellissimo Rage of Legends Qui va bene qua c'è la season 2014 Perché è iniziata appunto l'altro giorno La season 4 E quindi c'è l'immagine figa di Riven Che smazza un draghetto Chiudiamo Chiudiamo questa bellissima immagine Ok Questo è quello Il pezzo che conosciamo tutti Diciamo Questa è la spettata live Io attualmente ho la spettata live In coreano Perché è possibile cambiarlo dalle impostazioni Dopo metterò sotto in descrizione Il link della guida di Reddit Come cambiare lo spectate Da the west A nord americano Coreano Vietramita Giapponese Eccetera Vabbè qua ci sono Ultimo esempio uscito L'ultima skin uscita Qui sempre Il Le notizie dateci dalla Riot Già presenti nella Nella schermata di prima Prima di entrare in game Qui vabbè Gli ultimi video Fatti Dalla Riot Allora andiamo un po' A vedere delle cose più interessanti Queste funzionalità Lo shop Il nostro personaggino Le conosciamo tutti Qui c'è una chicca Per gli appassionati Per gli intenditori Per i curiosi Il giornale of justice Praticamente Una Una versione più fantasiosa Della The League of Legends Qui Ci sono dei giornalisti Che vanno nella landa degli evocatori A A informarsi Sulle vicende Che succedono Alla giù Oltanto io li leggevo Sinceramente Sì sono abbastanza simpatici E carini Qui sul punto di domanda C'è l'helper Dove Ti Soprattutto per i Per i newbie Per i nuovi arrivati Dove ti Ti insegna un po' Eh Cosa significa Chat Draft mod Masteries Eccetera Se siete nuovi Oltre a fare il tutorial Fate anche Leggete un po' Di help Che non fa mai male Ok Andiamo a vedere Qualcosa di più interessante Le rondelline Sempre le nostre rondelline Le nostre options Ok Qua c'è la preferenza di chat Enable language filter Significa che Non ci metti Gli asterischi Quando noi o loro Diciamo le parolacce Enable friendly notification Significa che Ti arriva la Le notifiche degli amici Le preferenze Vabbè Qui sono gli SFX Cioè quando Piciamo play Start the game Quando fa Quel rumore di sottofondo E qua c'è La musica Di LOL Quando siamo Nel Quando stiamo scegliendo Il champion Io l'ho tolto Entrame Perché dopo 3000 game Mi sono abbastanza stancato Di Dei suoni Del cliente di LOL Ok Le preferenze generali Disable menu animation Della schermata Principale Dove c'è il play Che Non fa l'animation Del Tipo ad esempio Diari Contro Superman Enable niby tips I I tool tips Per Per i nuovi arrivati Suppression notification Pop ups Che penso che Elimini Le notifiche Diciamo Lo spam Di notifiche E qua Avvertimi Quando clicco In un link In chat Ad esempio Ti mandano Nella chat Un video di youtube Tu C'è che chiuso Mi dice Attento Questo ti porterà Sul sito esterno Vuoi accettare Sì o no Adesso andiamo a vedere Qualcosa di molto più denso Ciò che si nasconde Dietro il tasto Esk Quanti di voi Si sono Soffermati A leggere Queste opzioni E quanti di voi Ci hanno capito qualcosa Ok Oggi Cercherò di spiegarvele Io Al meglio possibile Iniziamo Con l'hot key Ah Nell'hot key Questa è stata La schermata Messa Ultimamente Della riot Dove ci permette Di swappare Velocemente Tra il normal cast All O il quick cast All Il normal cast Ovviamente Dopo che abbiamo Cliccato la spell Bisogna cliccare Sul terreno Sul field Per Per castare la spell Mentre col quick cast Non è necessario La spell Parti direttamente Questo è anche Chiamato smart cast Ok Siccome io In questa schermatina Ci ho capito Poco o nulla Vado Un pochino Più in profondità E io Ad esempio Le modifiche Per le mie spell Le faccio direttamente Da qui Da questo menu A finestella Ability Senza ammone Spell Ok Di default Il quick cast Si fa con lo Shift Q Shift V Shift R Mentre il cast spell Con Q V e R Bene Io L'ho messo All'opposto Siccome io mi trovo Molto bene Con lo smart cast A volte Quando non conosco Bene il range Di una spell Piggio shift Q Per vedere Quanto è il range Di quella spell Questo è appunto Questo è un esempio Del Del normal cast E invece Se io clicco Direttamente la spell Questo è il quick cast Io lo uso Come utility Diciamo Il cast normale Di una spell Appunto per vedere Il range Di quella spell Molto utile Ad esempio Quando gioco Personaggi come Blitz, Crank O O Trash Ad esempio Devo fare un grab In mezzo a Di minion E Piuttosto che farlo Azzardato Per rischio Friciare Shift Shift Q E vedere se Se effettivamente Il braccio La catena Ci passano In mezzo a quei minion Ok Questo è Per quanto riguarda Le spell Questo c'è il self cast Il self cast Che appunto Si fa con Alt Più la spell Desiderata Permette Di Di fare una spell Velocemente Su se stessi Cioè Di fare una spell Su se stessi Scusate Ad esempio L'ulti di Kyle Diciamo Alt R La fa su di noi Oppure Lo scelto di Lissin O la cura Di Nidale Allora Sembra Sembra una cavolata Ma invece Molto utile Ad esempio Io l'ho visto Con Kyle Mentre Durante Durante Un team fight A volte Non è che Ti puoi stare lì A cercare Con la ultima Da pigiare Su di te Perché se Mi sclicchi La fai su un alleato Poi diventa Veramente Cacca Allora Tu pigi velocemente Alt R E te la fa su di te E' molto utile Allora In LOL I tasti da imparare A parte Q, V, R D, F E Quattro tasti numerici Sono Sono Control, Shift E alta Control Per maxare la spell Ad esempio Ora l'ho maxata Col più Mi pare Però non va affatto Va affatto col control Si maxa la spell Assolutamente Perché Questo ti permette Di non perdere tempo Adesso infatti Lo andremo a vedere Poco sotto E' importante Imparare ad usare Questi tre tasti Visto che non sono tantissime Stiamo giocando Un MMO Dove hanno Miliardi di tasti blindati Blindati Qui Ne bastano quattro Ok Qui è il Quick Self Cast La stessa cosa Del Self Cast Su stessi Ma In Smart Cast Ok Qua c'è Il level up delle spell Appunto Il level up delle spell Si fa col control E' molto utile Ad esempio Mentre siamo Stiamo fightando Stiamo threadando E uno dei due Fa il Il 6 Prima dell'altro Uno Piuttosto che andare Mentre thread Andare a cercare Il più Sul Su In gioco E' meglio che fa Control R E la tira Instant Ok Questo invece Il target champion Omni Questa E' una cosa Abbastanza interessante Andiamo subito A vedere Io ad esempio Se mi volessi muovere Contro un minion Vediamo che fa La lineetta rossa Da qui Fino al minion E in più Mi fa la spadina Addosso al minion Signora che il mio champion Andrà ad attaccare Quel minion Appena sarà in range Andiamo qua Che ce ne sono di più Che è forse un po' meglio Ok Mentre se io cerco Il Io clicco il Il target champion Only Mi verrà Vedi ad esempio Io l'ho blindato Sul mouse 5 Uno dei mouse Uno dei tasti laterali Del mio mouse Non cliccherà più Sul champion Non farà più la spadina Vedete Cliccherà sul campo E Se io avessi Un champion Contro un nemico In mezzo a questi minion Cliccherebbe Quel champion Io prima lo usavo Quando giocavo A di carry Ogni tanto Ad esempio Quando l'avversario È a mezzo ai minion Per evitare Di attaccare Un minion Lo cliccavo E autoattaccavo La di carry Anche per cesare Effettivamente Non è malissimo A volte si può sbagliare Il nostro champion Si mette Ad autoattaccare Un creep È utile Ma non è così fondamentale Adesso soprattutto Lo uso per ritornare l'ena Ad esempio Quando becco Clicco Sulla minimappa Per tornare l'ena A volte Succede che Che hit a un minion Sulla minimappa Perché quel minion Venga ucciso Il vostro personaggio Si fermi Quindi A volte si Lo uso In quella chiave Ok Teleport home B Questo penso Che lo sappiamo tutti Gli items Questo è Il sempre discorso Di prima Per le spells Normal cast Il quick cast Per usare appunto Gli oggetti Più Cioè Questo è il normal cast Ad esempio Ora Torno in base Vi faccio vedere Come funziona Dimenti Ok Compriamo ad esempio Il mio trinket E una word Ok Se io piaccio Shift 1 Sì Shift Se io piaccio Shift 1 È lo stesso discorso Che sto Castando normalmente Un trinket Anche qua Ho swappato Tra lo smart E il cast Normale Se io faccio Shift 1 Questo mi piazzerebbe La word Qui ad esempio E mi fa vedere Il range Della word Altrimenti Contrariamente Se io invece Clicco velocemente Uno Me la piazzo subito Appunto Perché ce l'ho Qui in quick cast Ok Questo è il self cast Item Sinceramente Non l'ho mai provato Perché quando clicco Sulle pozze Non mi chiede Se le voglio tirare Addosso a un alleato Quindi Non so benissimo A cosa A cosa servo Almeno attualmente In League of Legends Qui sono i movimenti Del player Vabbè Move click Mouse 2 Cioè il mouse Il click Di destra Attack move Con lo shift E il mouse Vedete come vedete Fa Le freccette Dovrebbero essere rosse Io siccome c'ho il color blind Che adesso vedremo più avanti Le vedete arancioni Ok E questo invece È l' Attack only click Cioè ad esempio Se io lo settassi Il mio champion Se fermo Non attaccherebbe Attaccherebbe solo Se io Cliccassi Ok Spero di aver Azzercato tutti I congiuntivi Condizionali Per gli attack move È molto simile Allo shift Ma funziona Con lo A Cosa cambia Con Allora lo shift move Viene soprattutto utilizzato Per Per Chitare un avversario Ad esempio Se un avversario Si sta accesando Noi ci muoviamo Con shift all'indietro E lo attacchiamo Ad esempio Faccio un Un esempio Veloce Ai Ai golemini Mettiamo caso che Questo golem Sia un avversario Ok Allora Per attaccarci E muoverci L'attack move Si può fare Sia così Ora C'ha l'attack speed Di un hippopotamo Quindi ci mette mezz'ora Solitamente Andrebbe fatto Con lo shift Vi faccio vedere Io ti attacco Vado indietro Shift Vado indietro Shift Vado indietro Shift Ok Questo è il concetto Cosa fa lo shift move Attacca Il primo Bersaglio Aggressivo Più vicino Cioè Il bersaglio aggressivo Più vicino Al nostro champion Questo cosa significa Che se c'è un minion Delle vicinanze Perché il minion Come abbiamo detto Nella guida prima È aggressivo Rispetto ai mosti Neutral camp Questo attaccherà il minion Io ad esempio Sto pigiando shift Andando indietro E questo attaccherà Un minion Un altro Questo è un È un contro Purtroppo Perché Non si ferma Ad attaccare Solo i champion Quindi se abbiamo Un minion Delle vicinanze Noi proviamo a fare Lo shift move Il nostro champion Si ferma Ad attaccare Il minion Magari siamo scesati Da un bruiser La situazione Si fa veramente brutta Un altro contro È che Se noi proviamo A fare shift move Mentre siamo In il range Di un bersaglio aggressivo Il nostro champion Come vedete Non si muoverà Cioè Quindi noi dobbiamo Muoverci all'indietro Autoattaccare Muoverci all'indietro Usare lo shift Muoverci all'indietro Usare lo shift Capito Questo per cercare Di quitare Adesso Purtroppo C'ho poco attack speed Quindi non mi riesce Di farvelo vedere bene Questo mi dà Parecchio fastidio Ad esempio Io attacco il golemone Vado indietro Shift Vado indietro Shift Vado indietro Shift Si ci metto un po' D'attaccarsi Vado indietro Shift Vedete Però il vostro mouse Resta sempre dietro Perché è utile Perché solitamente Quando noi cerchiamo Di quitare Facendo questo discorso qui Se noi ci sbagliamo E clicchiamo sul terreno Gli andiamo in bocca Quante volte vi è successo Di andare in bocca All'avversario Di morirci esplosi Proprio perché avete Miss cliccato sul terreno Allora Non è facilissimo Schillarcici Con lo shift move Ovviamente Non è proprio Una cosa che si impara Subito Però A forza di allenarvi Anche con Io quando voglio imparare Voglio imparare una cosa Mi alleno Anche con i minion Della giungla È utile È veramente utile Soprattutto ovviamente Se gioca da di carry Un'altra utilità Dello shift move Ad esempio Quando cesate Un avversario Di cui state Per prendere la vita Ad esempio Entra e non c'è spuglio Voi cliccate Shift move Appena lo vedete Si ferma ad attaccare Ad esempio Molti vi trollano Entrando e uscendo No Voi con lo shift move Quello appena esce Lo attacca sicuro Quante volte vi sarei successo Se siete trollati Così No Anche ad esempio Se un bersaglio è stealth Appena riappare Lo colpite Tipo un rengas Vi sta ultando E a poca vita State treddando Voi con lo shift move Appena compare O uno shag Appena compare Il vostro champion Si metterà subito Ad attaccarlo È molto utile Ed anche Inoltre per cesare Il vostro Ad esempio Quando voi giocate La di carry Se vi muovete Con shift move Per cesare una persona Sembrerà che il vostro Ad carry Lo attacchi più velocemente Invece che Attaccandolo Con un normale Cioè cliccandoci Normalmente sopra Quindi sì Ovviamente dovete sempre Stare attenti Che non ci siano Né minion Nelle vicinanze Né mostri aggressivi Cioè ad esempio Se io picco shift move Davanti ai right Siccome sono Campi neutrali Questi qui Non mi aggredano Per qualsiasi campo neutrale Ovviamente vale Che sono tutti I mob della giungla Però se io lo attacco Ad esempio L'avversario fa una spell Tipo una code lissina Sui right E io mi metto Shift move E quello sta scappando È Zeriansi Mi ha dato attaccare I right Perché sono Il primo bersaglio Aggressivo Disponibile Ok Per attack move Dicevamo Fa il Per attack move La cosa che cambia È che fa il Come si chiama Il Il bersaglio È utile ad esempio L'en per la seta Dominion difficile La prima parte Della guida Del cliente Si conclude qui Mi raccomando Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima